Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i Meetup Aperitech Online Edition di CodeMotion. Questa sera siamo con la community di Deep Learning Italia. A breve lascerò la parola a Matteo e poi a Francesco per il vostro e vi lascerò lo vostro Meetup. Io sono Paolo, Community Manager in CodeMotion. Vi presento ora appunto gli Aperitech, che sono un circuito di eventi organizzato da CodeMotion in collaborazione con l'Avenger Group e hanno lo scopo di fornire, di dare agli sviluppatori, di dare un supporto agli sviluppatori e fornire una crescita professionale tramite video, Meetup e conferenze. E qui a video potete vedere i nostri riferimenti, abbiamo il creale Telegram, il nostro Dev Calendar con tutti gli eventi in programma, il nostro gruppo su Facebook CodeMotion Tech Community e il nostro canale su Twitch. Andiamo avanti. A luglio abbiamo inaugurato la nostra video platform, sempre sul nostro sito CodeMotion.com. Troverete appunto la nostra video platform che contiene tutti i video che abbiamo organizzato e creato in CodeMotion durante tutte le conferenze, durante i nostri DevCast. Quindi avrete la possibilità di avere sempre a disposizione on demand tutti i video, potete taggarli e potete filtrarli per tag, per linguaggio o per livello. Quindi vi consiglio di andare a vedere nella nostra piattaforma e scegliere quello che più vi piace. Come vi dicevo prima, la video platform potete o inserire nella label predisposta il topic di vostro interesse oppure utilizzare il menu a tendina con i macro tag e quindi muovervi all'interno dei nostri video. I video sono anche organizzati attraverso delle EduPath, dove appunto potrete utilizzare questo gruppo, questi video raggruppati secondo un macro tema per imparare per esempio a come sviluppare un'applicazione in React. Quindi visitate anche la sezione EduPath. Se ancora questo non vi basta potete farvi ispirare dalle nostre playlist, dove appunto attraverso sempre dei macro temi proveremo a ispirarvi per farvi vedere. Qui a video potete vedere i nostri prossimi eventi, sia in presenza perché finalmente siamo riusciti a tornare in presenza qui nella sede di L-Venture a termini, oppure come a vedere ci sono anche dei meetup online o in versione ibrida, cioè con lo streaming del meetup in presenza. Vi invito sempre a seguire i nostri eventi al sito community.codemotion.com. Vi segnalo anche i nostri DevCast. I DevCast sono un nostro format, sono costituiti da una serie di episodi, solitamente sono quattro episodi relativi a un macro tema. In questo momento abbiamo attivi la DevCast serie del frontend e del cloud. Si svolgono tutti i martedì per quanto riguarda il frontend e tutti i mercoledì per quanto riguarda il cloud alle 11 di mattina. Rimangono gli ultimi due episodi, uno c'è stato oggi, uno ci sarà domani per il cloud e l'ultimo sarà settimana prossima. Vi invito a seguirli, a registrarvi, anche perché avrete, chi si registrerà avrà la possibilità anche di vedere il diviso dei passati. Infine, noi di Codemoce abbiamo sempre bisogno del supporto di quei community, quindi se avete voglia potete partecipare al nostro beta program. Si tratta di una piccola intervista dove noi vi chiediamo dei feedback, sia positivi ma ovviamente negativi, per riuscire sempre a migliorarci. Grazie, lascio la parola a Matteo. A dopo. Grazie Paolo, grazie. Allora, intanto condivido il mio schermo. Forse devi toglielo te, Paolo? Sì, sì. Ok, fammi vedere. Allora, io vi rubo ancora meno di Paolo. Non so se vedete il mio schermo. Francesco, tu vedi il mio schermo? Ok. Allora, io sono Matteo Tessi, fondatore di Deep Learning Italia. Ringrazio tutti quanti i partecipanti per seguirci anche a novembre e poi l'ultimo, diciamo, meetup sarà il 9 dicembre, mi sembra. Ora potete vederlo sui nostri canali. Allora, prima di introdurre Francesco, che sarà il nostro speaker di oggi, volevo far, diciamo, far notare, diciamo, la crescita anche della nostra piattaforma di learning, in cui Francesco presto rilascerà anche lui un corso. Per andare sulla nostra piattaforma di learning, potete andare direttamente sul nostro sito, deeplearnitalia.com, nella sezione learning, oppure direttamente tramite l'URL e learning.academy.dli. Come potete vedere, ci sono diversi corsi, mi sembra 25 in totale. Quindi abbiamo aggiunto anche i fondamenti di machine learning, anche Power BI, tantissimi sulla parte reinforcement, time series. E poi, seguendo un po' le indicazioni della nostra community, abbiamo preparato dei bundles, quindi un insieme di corsi su un particolare tema. C'è anche quello di quantum, quindi, per esempio, adesso ci sono due corsi di quantum. Quando Francesco rilascerà il suo, andrà sia, diciamo, come corso free che come corso libero, diciamo, sia all'interno di questo percorso. Reinforcement learning, NLP, Computer Vision, anche Legal Tech Professional. E poi, sempre per venire incontro alla community, abbiamo preparato due percorsi, Data Science Basic e Professional, che raccolgono un po' tutti i corsi all'interno della piattaforma, quindi Basic e Intermediate Band, diciamo, così. Perché, per chi non ha ancora idea, diciamo, su che focus si vuole puntare, quindi vuole un attimino un'infarinatura, magari generare o rimanere sempre in update. Quindi questo è un po' quello che stiamo facendo. Vi consiglio di dare un'occhiata ogni tanto, perché entro fine anno, diciamo, raggiungeremo più o meno i 40 corsi. Diciamo, ad oggi siamo, già adesso siamo la più grande piattaforma di learning sull'intelligenza artificiale in lingua italiana, perché ogni docente, soprattutto nostro, fa una serie di corsi, non insegna ogni cosa, proprio perché vogliamo un focus particolare, ecco, perché, per esempio, sono entrati in contatto con Francesco. Allora, abbiamo iniziato una serie di meetup anche sulla parte quantum, che devo dire, sono andati molto bene. E quindi, dopo i precedenti meetup che abbiamo fatto la parte quantum, magari un po' più pratici, volevo portare una persona che si occupa di quantum da diverso tempo, come Francesco Sesini, per parlare un po' anche, diciamo, di quello che lui pensa e fa adesso lui, si occupa proprio di quantum computing consultant, scusate, quindi un po' quello che, poi glielo chiederò anche a Francesco, un po' quello che potrebbe essere il futuro di questo, di questa, di questa tecnologia. Quindi immagino che, come hanno fatto anche altri speaker che hanno spiegato un po' le applicazioni, per esempio, e dove si vedono da qui a cinque anni, perché da quello che mi raccontano non è una cosa che si vedrà da qui a dieci anni, ma è da qui a cinque anni. Volevo portare un parere un po', senza non togliere la pente di speaker, ma un parere, diciamo, di una persona che si occupa un po' più di tempo, che magari ha visto un po' tutti i passaggi, un po' come chi faceva AI 15-20 anni fa. Quindi lascio la parola a Francesco che può riprendere un attimo la sua introduzione e vi auguro un buon meetup. Grazie. Grazie, grazie Matteo. Intanto, scusa, preparo anch'io la condivisione dello schermo, intanto saluto tutti, ringrazio tutti. Ok, mi rende un feedback, Matteo, si vede la presentazione? Sto partendo? Sì, la vedo. Ok, perfetto. Ora, intanto, volevo ringraziare l'organizzazione per l'invito che ho molto gradito, diciamo, sia perché ho pensato molto, diciamo, a questa realtà di cui sono venuto a conoscenza e poi perché mi fa molto piacere, diciamo, di parlare, parlare dell'argomento appunto che ho portato questa sera. Assolutamente, diciamo, condivido ecco la fase finale delle delle cose che ha detto Matteo, nel senso che mi fa piacere poi magari anche, ecco, rispondere a domande su quello che è la, diciamo, l'applicazione pratica, su come è prevista, ecco, nei prossimi anni, appunto, come diceva, ormai non si parla più di fare dieci anni, ma si comincia a parlare di un futuro un po' più prossimo. Ecco, quindi, ecco, detto questo, ringrazio tutti, diciamo, per aver partecipato e credo che, in realtà, ecco, sia veramente un'occasione per vedere qualcosa di veramente interessante, perché, diciamo, la realtà che vi propongo questa sera vi chiedo, anzitutto, di avere un po' di pazienza nel seguirmi, perché dovrò raccontarvi delle cose a cui magari non siete abituati, no, perché non parleremo solo di quantum computing, ma in realtà entraremo in quella che è la quantum information theory, cioè la teoria dell'informazione quantistica, e soprattutto la vedremo da un punto di vista che è veramente nuovo. È veramente nuovo perché, diciamo, è veramente nuovo anche per gli addetti ai lavori, perché è un punto di vista che si sta formando, diciamo, si è venuto a formare pian piano negli ultimi dieci anni. È partito da uno dei padri fondatori del quantum computing, cioè da David Deutsch, e oggi però abbiamo una, diciamo, è stato poi sviluppato da un fisico, da una fisica, che è Chiara Marletto, che invece è una ricercatrice italiana, che però lavora appunto a fianco di David Deutsch in Inquilterra, Oxford, per cui, diciamo, è sicuramente, diciamo, una realtà veramente nuova e veramente interessante. Ecco, ci tengo a dire, siccome, diciamo, le cose che vi presenterò questa sera sono veramente nuove, veramente innovative, non tanto la tecnologia, che, diciamo, ormai è una tecnologia che sta avanzando da un po' più di vent'anni, ma il punto di vista, un punto di vista che forse in un certo senso comincerà anche a smorzare la domanda del che cosa ce ne facciamo e quantum computing, quanto perché vedremo veramente che è una prospettiva talmente nuova che sarebbe un po' come chiedersi negli anni cinquanta cosa facciamo del computer, no? Se avessimo chiesto negli anni cinquanta a Enrico Fermi, tanto per citare uno dei primi fisici che si è occupato di informatica, proprio dal punto di vista applicativo, non tanto dal punto di vista progettuale, cosa cosa te ne farai di un computer? Ma lui probabilmente avrebbe risposto ma farò dei codici Monte Carlo, no? Cioè praticamente l'esecuzione della simulazione, dei sistemi fisici, però forse in quel momento neanche Enrico Fermi si sarebbe aspettato la pervasività con la quale poi la tecnologia, oltre che la scienza, ma anche la tecnologia informatica sarebbe entrata nelle nostre vite, no? E diciamo il quantum computing, specialmente se visto dal punto di vista che vi offrirò questa sera, sarà ancora più pervasivo, perché forse, ovviamente il condizionale è d'obbligo, forse ci porterà a dare delle risposte a domande che ci poniamo un po' dall'inizio, diciamo, dall'inizio del pensiero umano, per cui è veramente qualcosa di veramente nuovo. Quindi non stiamo solo pensando a risolvere dei problemi cubo, non stiamo solo pensando a come il quantum annealing potrà aiutarsi a velocizzare, per esempio ho in mente uno dei case sta di Wave, no? C'è per quello che è il pens shop problem, cioè del dipingere, insomma tinteggiare le automobili secondo un sistema, insomma, che ottimizzi la catena di produzione. Ecco, non saremo, diciamo, non si limita a questo. Adesso, ovviamente poi lo vedremo nel corso di questa presentazione, le cose possono essere, potrebbero veramente cambiare, cioè questa nuova prospettiva del quantum computing è veramente qualcosa di di rivoluzionario. Ecco, prima di cominciare mi fa piacere anche appunto comunicarvi che essendo una cosa veramente nuova, ho preferito anche, diciamo, fare visionare questa presentazione proprio a Chiara Marletto, appunto, che, insomma, la dottoressa, la dottoressa Chiara Marletto, che, appunto, che lavora poi a fianco anche di David Deutsch, insomma, così, anche per un confronto, diciamo, scientifico, insomma, mi ha detto, insomma, diciamo, virgolette, ecco, che me le ha avallate, ecco, solo per dire, non siamo qua a raccontare cose che ci stiamo inventando sul momento. Ecco, tutto qua. Ecco, mi sembrava interessante. Quindi partiamo dal titolo, no? Beh, intanto, se ci sono, non so come siamo abituati sulla piattaforma, perché, insomma, è la prima volta che partecevo come speaker, diciamo, dal mio punto di vista, se ci sono domande anche durante la presentazione e la prassi, poi, insomma, qui ci sono Matteo e Paolo per questo. Quindi partiamo dal titolo The Science of Ken and Ken, cioè che in italiano serve un po' la scienza di ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Ho preferito lasciarlo in inglese perché rende molto di più rispetto all'italiano, all'italiano sembra quasi una questione di carattere legale. Bene, partiamo, sento risposto un po' questo, altrimenti oppure che non si veda, che non si veda qualcosa, questo qua credo che si veda. Partiamo un po' da un quesito, no? Cioè, si ha un po' l'impressione, diciamo, che ultimamente l'informatica è sempre più spostata verso la fisica e che la fisica si stia sempre più spostando verso l'informatica. Quindi, alla fine, la domanda che viene un po' da porsi, diciamo, per chi sta seguendo in questo momento l'evoluzione del quantum computing in particolare, è se in effetti, alla fine, l'informatica sia di pertenenza della fisica o se la fisica sia di pertenenza dell'informatica. Perché? Perché il tutto sta sempre andando più verso una teoria dell'informazione. Allora, diciamo che dipende un po' da come vediamo la fisica e da come vogliamo vedere l'informatica, no? Ora, in questo slide ho preparato un po' quello che è la visione classica della fisica. Ora, a sinistra vediamo una tabella che rappresenta le particelle elementari, fino ad oggi, diciamo, conosciute e appunto che vengono sistemate in quello che si chiama il modello standard. Il modello standard, in realtà, si sa che ha qualche problemino, il primo fra tutti, e che ancora non è completamente, diciamo, coerente con la teoria della gravitazione di Einstein. Non lo sarebbe neanche con quella di Newton, anzi, sarebbe ancora peggio. Quindi, diciamo, è un modello, insomma, che dà grandissime spiegazioni della maggior parte dei fenomeni fisici, però non si può probabilmente ancora ritenere il modello finale. Ma, ecco, detto questo, scusate, un'osservazione un po' del fisico, diciamo, quindi, in una visione ortodosso, la fisica di cosa si occupa? Nello scoprire tutte le particelle e tutti i campi che, diciamo, che caratterizzano il nostro creato, e poi qua a destra invece vediamo quelle che sono sopra l'equazione di Dirac, sotto l'equazione di Schrodinger, le ho riportate entrambe. Una descrive la dinamica dell'elettrone in un sistema relativistico, quella sopra, quella di Dirac, invece quella sotto è appunto la più nota equazione di Schrodinger, che descrive la dinamica dell'elettrone in un sistema non relativistico. E quello che vediamo è un elettrone che sostanzialmente si sposta, ecco, questa è un po' l'idea. Quindi, che cosa fa la fisica dal suo punto di vista, ecco, classico, come ci viene presentata a scuola, ma anche un po' come viene presentata anche nei corsi universitari, sia di ingegneria ma anche di fisica. Descrive l'evoluzione di sistemi dinamici. Quindi questo è un po' il punto di vista. Quindi i sistemi dinamici, diciamo, quando si entra nel mondo della meccanica quantistica, sono i sistemi che sono caratterizzati da particelle che devono far parte di quello che è il modello standard. Quindi questo per quello che riguarda la fisica. Vediamo invece cosa abbiamo per quello che riguarda l'informatica. Eccolo qua, abbiamo un uso orto rosso della computer science. Quindi se adesso invece andiamo a vedere cos'è l'informatica, abbiamo scritto l'informatica, diciamo, la classe delle funzioni calcolabili coincide con quella delle funzioni calcolabili da una macchina di Turing. Allora qui ho preparato un breve filmato in cui vediamo una macchina di Turing computare una somma 6 più 6. Eccolo qua. Quindi, insomma, è passata per i suoi bravi strati. Adesso siamo partiti da una configurazione in cui avevamo due stringhe di uno, lunghe entrambe 6 e la macchina di Turing, che sono regole di selezione attraverso il campo degli strati, ha computato. Quindi questa è l'idea invece di quello che è la computer science. Quindi da un lato abbiamo la fisica che si occupa della... Dobbiamo andare avanti, guarda, attenzione, come faccio? Ecco, ho qui. Allora, non sempre, uno, due, arrivo, scusate. Ecco qua, ci sono quasi... Ecco qua. Quindi da un lato la fisica descrive la dinamica delle particelle e dei campi, adesso guarda, non entriamo nel dettaglio. E invece la computer science si occupa, la computer science si occupa, per esempio, quindi di definire quali sono le funzioni computabili, di definire la complessità e di ricendo. Bene, a questo punto ci poniamo una domanda. Ma quindi i computer eseguono funzioni? Quindi se la vediamo così, quindi la computer science è comunque, diciamo, la scienza della computazione, no? Allora qui ovviamente ricordiamo Alan Turing, appunto che è l'autore della macchina di Turing, e quindi alla fine dobbiamo pensare che comunque al fine il computer, come sistema fisico implementato, quindi sia un sistema che esegue delle funzioni, se la computer science riguarda le funzioni, no? Beh, vediamo che se noi vediamo un computer da un punto di vista architetturale, sì, in effetti è un sistema atto a eseguire funzioni. Adesso qua ho riportato sul classico, è un'architettura di base, in cui abbiamo i vari registri, la memoria e la CPU, quindi visto così, quindi da un punto di vista funzionale, in cui ho dei blocchi funzionali, bene, quindi posso pensare che il computer in effetti sia un sistema che esegue delle funzioni, e quindi continuo ad avere questa separazione tra fisica come disciplina e informatica come disciplina. È vero però che se io invece un computer lo vado a vedere concretamente, adesso qua ho riportato così un'immagine da Wikipedia che fosse un shareable, che fosse un common di una CPU, e se lo vedo è vero, invece in realtà mi accorgo che è un sistema fisico, qualcosa di concreto, che ha i suoi problemi fisici, è un sistema fisico, cioè non è semplicemente questa astrazione in questo diagramma, è qualcosa di reale. E quindi in effetti mi metto a ragionare e dico, no, ma allora in realtà se un computer è un sistema fisico, ho un ragionamento, quei ragionamenti che sono talmente ovvi che a volte non li facciamo. Se un computer è un sistema fisico, allora anche la computazione è un sistema fisico, e tutta quell'esecuzione di codici che io mi immagino come il program counter che viene incrementato, in realtà è un sistema fisico che sta evolvendo, esattamente come un pendolo, ovviamente è molto più complicato di un pendolo, però è esattamente come un pendolo, oppure come in questo caso, questo circuito maglie, che ho rappresentato così, solo così, per dare un'impressione. Cioè in realtà quando eseguiamo un programma, noi abbiamo l'evoluzione di un sistema fisico, quindi può essere descritta semplicemente con le leggi della fisica. Ricordiamoci che anche l'elettronica e l'elettrotecnica sono teorie fisiche, che poi a un certo punto sono state sdoganate, diciamo, e passate a tutto quello appunto che è il ramo dell'ingegneria, perché diciamo la fisica aveva già esaurito i suoi discorsi riguardo ad esso e quindi veniva tutto quell'aspetto di ingegnerizzazione che poi appunto rende i prodotti finali interessanti anche per l'utenza e non solo appunto per la ricerca. Bene, quindi in realtà la computazione è l'evoluzione di un sistema dinamico. Allora a questo punto mi chiedo, sì ma io il mio codice, il mio programma cos'è? Ma il mio codice in realtà il mio programma cos'è? È memorizzato nella RAM in termini, non so, per esempio di cariche accumulate in un condensatore e quindi il mio codice e il mio RAM non sono altro che le condizioni iniziali del sistema dinamico che vi ha in esecuzione. Quindi questo in realtà se ci pensiamo è un po' uno stravolgimento, cioè finché diciamo che è compiuto nel sistema fisico siamo tutti d'accordo, diciamo per forza è fisico, è un oggetto reale o dei condensatori, ma se cominciamo a pensare che anche la computazione in realtà non sia altro che la normale dinamica di un sistema fisico, esattamente come io posso vedere un pendolo che sta computando, cioè un pendolo computa. Su questo per chi interessa ho anche scritto un articolo sulla macchina di Turing di un pendolo, di un pendolo svolzato, in realtà possiamo calcolare la macchina di Turing che ci accorgiamo che equivale a un ciclo foro, interessante. E quindi in realtà appunto un sistema fisico posso vederlo come un, scusate, il contrario, anche quello è vero ma sto parlando del giocamento volontario, un computer posso vederlo come un sistema fisico in evoluzione dinamica. E quindi a questo punto io mi accordo che allora questa separazione non è più così netta, cioè questa separazione tra fisica e informatica non è più così netta, e quindi anche tra computer science, tra scienza delle computazioni e scienza fisica, quindi della dinamica delle particelle, non è più questa grande distanzione. Uno dei primi, facciamo un po' di storia ad accorgersi di questo parallelismo, è Paul Benioff, che proprio lui scrive, su cui appunto c'è sia le immagini, quello che vedete sotto è la licenza di Google, non è che ho sbagliato persona, quindi questo qua sotto, lui si chiama Paul Benioff, che è questo qua, e invece qua sotto è la, diciamo, è le X on the credits da riportare per Wikimedia. Quindi Paul Benioff è uno, diciamo, diciamo che è il primo autore, è il primo e unico autore di questo articolo, quindi diciamo è uno tra i primi a occuparsi del problema. Questo articolo, di cosa parla? Adesso leggiamo il titolo insieme, The Computer as Physical System. Cioè il primo a cominciare a vederla proprio così, no? Turing, quando pensa alla sua macchina, ma anche Cerce, nel lambda calcolo, tutto, insomma comunque pensano a delle cose concettuali, cioè non si pongono un problema, dire mai fisicamente poi sto nastro, invece lui dice, beh no, no, The Computer as Physical System. A microscopic quantum mechanical and miltonian model of computers as represented by Turing machine. Quindi dice, no, attenzione, proviamo a pensare se è possibile pensare a una macchina di Turing realizzata da un sistema fisico elementare, cioè realizzato proprio a livello quantistico. Cosa significa realizzato a livello quantistico? Cioè realizzato come quello che si chiama un sistema coerente, un sistema coerente dove ogni singola componente proprio segue semplicemente le regole della meccanica quantistica. Quindi lui si pone il problema se sia possibile costruire una macchina di Turing, in questo caso qua lui non sta pensando a un'architettura di Von Neumann, cosa importante perché diciamo attualmente noi nel quantum computing non usiamo più macchine di Turing. Ovviamente sono macchine Turing equivalente, o meglio Turing equivalente, quelle quantistiche, ma non è completamente neanche vero, perché in realtà non ci si è ancora arrivati, in realtà diciamo che noi abbiamo solo delle sorte di CPU quantistica, dei pezzettini, non c'è l'intera macchina, ma comunque sia diciamo non ricalcano il modello della macchina di Turing. Mentre Paul Benioff pensa proprio a ricostruire il modello della macchina di Turing. Quindi ripensa a come costruire il nastro, ripensa a come costruire la testina, a come sono scritti i simboli e quali sono le regole di transizione. Quindi proprio va a ricostruire la macchina di Turing in modo quantistico, solo da un punto di vista teorico. Questo è importante, però dà la prima descrizione corretta di un sistema, anche se con un certo mangro dell'approssimazione, adesso questo lo dico più che altro se c'è qualche fisico che mi sta ascoltando, in realtà lui non riesce a descrivere lo stato in maniera totalmente corrente, rimane a un livello di approssimazione, ma diciamo in questo momento la cosa non ci tocca. La cosa importante è che è il primo che ha questa visione, dice in realtà se io descrivo un sistema fisico, come potrebbe essere un lattice di spin, che appunto viene utilizzato per descrivere il nastro, potrei realizzare una macchina di Turing. E qui interviene finalmente David Deutsch, che pochi anni dopo, che vediamo qua in figura, già diciamo adesso qui più o meno, immagino che questa foto sia circa attuale, adesso che questa è ragionevolmente l'età che può avere adesso David Deutsch, ma in realtà quando fa questo articolo è veramente un ragazzo giovane, deve avere pochi più di 25 anni, nell'85, sì, 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 forse ne manca una trentina, e lui diciamo riformula proprio la tesi di Church Turing, la tesi di Church Turing, insomma che la riporto qua per semplicità, cioè l'idea che every function which will naturally be regarded as computable can be computed by an universal Turing machine, cioè quindi perché qualsiasi calcolo oggettivamente calcolabile, che sia l'estrazione di una radice quadrata reale a mano, quindi non solo simbolica, a qualsiasi calcolo in realtà può essere calcolato da una macchina di Turing. Quindi questa è la tesi di Church Turing, ma Deutsch la riscrive in termini fisici. E dice Every finitely relisable physical system can be perfectly simulated by universal modern computing machine operating by finite means. Lui dice, bene, a questo punto qui questa cosa dovremmo forse andare a riscrivere, non parliamo più di funzioni, ma parliamo di sistemi fisici, cioè è possibile realizzare un sistema fisico universale capace di simulare tutti gli altri sistemi fisici quantistici, quindi questo è in realtà sia in ambito classico che in ambito quantistico, cioè rivede completamente la computazione, dice la computazione non è più un problema di funzioni astratte che stanno nella nostra mente, ma la computazione diventa un problema di macchine fisiche, quindi ogni computazione è una macchina fisica, quindi che esegue una certa dinamica, ed è possibile costruire una grande macchina fisica, grande, dico da un punto di vista concettuale, non è che significa che debba essere più grande delle altre, però la cui dinamica simuli la dinamica di tutte le altre macchine fisiche. Guardo l'ora, scusate che non voglio uscire, ok, perfetto, siamo perfettamente anorati. Bene, a questo punto pubblica appunto la sua idea, in un articolo, di cui poi vi lascio anche il riferimento, che è appunto Quantum Theory, The Church-Turing Principle and the Universal Quantum Computer, di David Deutsch, a cui appunto lui va a rivedere, a riformulare il principio di Church-Turing. A questo punto abbiamo un nuovo punto di vista, quindi cosa abbiamo? L'elaborazione computerizzata è un processo fisico, però possiamo vedere un processo fisico come un'elaborazione di un'informazione. Quindi abbiamo questo nuovo punto di vista. Quindi vedere un processo fisico come un'elaborazione è un'elaborazione anche concettuale come un processo fisico. Al che giustamente viene la domanda. Quindi, e questo è sempre vero, c'è qualsiasi fenomeno fisico, anche se in casa di la gomma dal tavolo posso pensarlo come una computazione, c'è qualsiasi cosa che avvenga nel mondo, perché noi viviamo in un mondo fisico, per cui qualsiasi cosa che succeda è una computazione. Allora, anche qua diciamo che dobbiamo ragionare un attimo prima di rispondere. Anzitutto, vediamo una cosa. Se stiamo parlando di computazioni nell'ambito, diciamo, del nostro cervello, direi di aspettare un attimo e dare una risposta, no? Perché sicuramente il nostro pensiero è dovuto a quella che è anche un'attività biofisica, biochimica, fisica e via dicendo. Cioè, qua lo sappiamo tutti in questo contesto che il nostro cervello è una grande rete neurale, quindi in cui sicuramente c'è un passaggio di carica attraverso appunto uno spostamento di ioni e poi in realtà sembra che la comunicazione venca anche a livello di fotoni, oltre che attraverso a livello di carica. Quindi sicuramente c'è una componente fisica e su questo non si discute. Ma c'è dell'altro? Non c'è dell'altro? Come sostengono alcuni, tra i quali Penrose, un premio Nobel, in realtà anche il nostro cervello funziona un po' come un computer quantistico perché si possono creare all'interno dei tubercoli, si possono creare degli stati quantistici coerenti, ma forse, vedremo, diciamo, in questo momento non lo sappiamo e poi se dell'altro c'è uno spirito, c'è un'anima, non lo sappiamo, andiamoci cauti, sicuramente diciamo che nel cervello ci sono delle parti, quando pensiamo ci sono delle dinamiche fisiche e quindi questo è vero, però non sappiamo se è tutto vero. Ma per quello che riguarda invece la computazione fisica, qui possiamo ragionare un po' di più perché se rimaniamo nel mondo puramente fisico e inanimato, quindi diciamo inanimato, nel senso senso non vivo, sostanzialmente parliamo di questo, se parliamo di questo caso ho fatto una rappresentazione veramente molto semplice, quindi un pendolo, la cosa più semplice che si studia anche nelle scuole superiori di fisica, ma in realtà, questo sistema a questo punto qua può essere visto, può essere, sappiamo che non abbiamo, o almeno pensiamo, che non ci siano delle componenti di anima o di spirito, per cui possiamo pensare di poter chiudere, diciamo di poter verificare quella relazione che vi ha scritto sopra, quella corrispondenza tra computazione fisica, ma in realtà anche qua abbiamo degli altri ricercatori che si occupano e quindi buttano giù delle regole per stabilire quando è che un sistema fisico in effetti sta computando, anche di questo, c'è questo paper molto interessante, when does a physical system compute, cioè quando è che un sistema fisico calcola, e buttano giù questi quattro punti, ma in realtà questi quattro punti sono molto permissivi, cioè alla fine, adesso magari non vediamo tutti i dettagli, perché in questo momento intanto poi appunto potete vedere le slide con calma e non ci interessa entrare troppo nel dettaglio di questo paper, appunto che è scaricabile, però alla fine l'idea è se il fenomeno fisico è ben descrivibile, allora sì, stiamo parlando di una computazione, quindi in generale praticamente diciamo che quasi ogni sistema fisico che noi possiamo pensare, se possiamo descrivere in maniera corretta è una computazione e questo è un altro aspetto diciamo molto interessante. A questo punto facciamo appunto il punto, quindi vediamo, cominciamo a vedere, quindi un computer classico che cos'è? Un sistema fisico complesso sicuramente è composto da altri sotto sistemi fisici, per esempio all'interno di un computer comunque abbiamo dei condensatori, ma la dinamica del sistema può essere descritto nei termini della fisica classica, cioè tutta la dinamica di un computer classico, quindi cosa succede da quando lo accendiamo, quando va in computazione, tutto, in generale la sua macro dinamica può essere descritta in termini di fisica classica. Però abbiamo che la dinamica dei sottosistemi può essere descritta come fisica classica ma anche come meccanica quantistica, infatti per esempio se andiamo nel dettaglio di cosa succede all'interno dei transistor e quindi andiamo all'interno dei semiconduttori, in realtà per capire veramente cosa succede dobbiamo andare all'interno, quindi dobbiamo descrivere in termini quanto meccanics. Ma in generale la computazione classica la possiamo descrivere attraverso la fisica classica. Quello succede invece per un computer quantistico? Ecco, sia chiaro, in questa presentazione sto dando un po' per scontato che perlomeno si sia sentito parlare di cos'è un computer quantistico, non lo vengo a spiegare io nel dettaglio, però diciamo basta avere almeno sentito parlare se non per sicuro il discorso. Abbiamo che di nuovo il computer quantistico è un sistema fisico complesso composto da altri sottosistemi fisici, quindi in questo è analogo al computer classico, però la dinamica del sistema può essere descritta nei termini della meccanica quantistica. Fine. Cioè, mentre il computer classico può essere descritto attraverso la meccanica classica, il computer quantistico già lui, diciamo come dinamica, quindi già la computazione, può essere descritta solo in termini quantistici e così anche la dinamica dei suoi sottosistemi può essere descritta solo in termini quantistici. Quindi cominciamo a vedere che abbiamo una piccola differenza tra il computer quantistico e il computer invece classico. Bene, qual è quindi la differenza fondamentale? Allora abbiamo che la teoria dell'informazione per formare un messaggio richiede due stati distinguibili, questo ce l'abbiamo chiaro sia da Turing che da Shannon in realtà, che presentano la cosa da due punti di vista differenti, però in realtà arrivano alla stessa conclusione. Cioè Turing sappiamo che ci serve un alfabeto con almeno due simboli e diciamo il blank e a quel punto lì qualsiasi macchina di Turing può essere ricondotta a quella di macchina, diciamo una macchina di Turing che utilizza i due simboli. Shannon non c'è la stessa cosa, ci servono almeno due simboli e poi il blank che è rappresentato nel momento in cui non stai trasmettendo niente. Allora cosa abbiamo? Da un punto di vista classico abbiamo che la distinguibilità degli stati, quindi per esempio tra gli 0 e gli 1 è qualcosa che dipende per esempio dall'ampiezza di una grandezza fisica. Per esempio se io penso di star trasmettendo, di modulare, diciamo una cosa più semplice, moduliamo una informazione in termini di ampiezza d'onda. Allora cosa ho? Che è una certa ampiezza, pensiamola a una stupidissima, a un'onda elettromagnetica piana che quando vogliamo dare un 1 abbiamo una certa ampiezza dell'onda. Quando vogliamo dare lo 0 la diminuiamo a metà quello che vogliamo. Allora ecco che lo stato fisico è sempre lo stesso, ho un'onda elettromagnetica piana, però vado a modificarne l'ampiezza, così come se io penso a un bit in uno stato 1 o stato 0 all'interno di un condensatore, quindi all'interno di un vero bit. Che cosa ho? Un condensatore che sopra un certo livello di carica per me è un 1, sotto un certo livello di carica è uno 0. quindi questo è il punto di vista classico. Da punto di vista quantistico le cose cambiano invece perché la distinguibilità dei due strati è dato delle proprietà intrinseca della materia, delle particelle che sto usando. Per esempio posso pensare per farla semplice allo spin di un atomo, allo spin di uno ione oppure appunto alla polarizzazione del fotone. Quindi abbiamo questa differenza che abbiamo di nuovo tra il computer classico e il computer quantistico. Scenario classico. Stiamo attenti, adesso arriviamo e stiamo mettendo sul tavolo una serie di carte e tra un po' arriviamo un po' al punto. Scenario classico. La natura ci offre delle risorse con le quali abbiamo concepito e costruito i bit. Quindi noi abbiamo preso il silicio, abbiamo costruito prima del silicio abbiamo costruito dei condensatori, delle mavole, dei triodi. Dopo l'abbiamo fatto con i semiconduttori. Poi abbiamo le macchine artificiali che computano i bits. Quindi noi costruiamo queste macchine e definiamo delle grandezze fisiche che possono valere 1 o 0 e in questo modo diciamo attraverso queste macchine possiamo computare i sottosistemi fisici che valgono 1 o 0. Quindi in questo senso vediamo che l'universo è assolutamente agnostico verso il calcolo. Cioè dice l'universo ha semplicemente offerto la materia prima ma non è in nessun modo legato all'idea di calcolo. Questo è nello scenario classico. Questo è importante apprezzarlo. Proprio se volessimo stringere il concetto fino all'osso dovremmo dire che in un mondo classico la natura è fatta da punti materiali e i punti materiali non computano da soli. Cioè un punto materiale non è nulla. e quindi ecco nello scenario classico questo quindi l'universo non vuole non ci dice nulla riguardo alla computazione. Siamo noi come esseri umani che arriviamo e cominciamo a computare. Vediamo un nuovo scenario che cominciamo a entrare in questa scienza di ciò che può essere e di ciò che non può essere e vediamo come ci conduce in realtà all'interno di qualcosa di veramente nuovo. Per questo dico che limitare la domanda a che cosa possiamo fare con un computo quantistico vedremo che è veramente reduttivo. Ora, nuovo scenario la natura offre un sistema naturale di qubits perché? Perché noi in natura abbiamo già i qubits mentre non abbiamo i bit abbiamo i qubits. Questo è qualcosa da apprezzare cioè in natura non esiste il bit siamo noi che dobbiamo costruire dei sistemi a cui grandezze macroscopiche ci dicono è uno o è zero invece in natura abbiamo già i qubits per esempio lo spin di un fotone la fotone la particella elementare del campo elettromagnetico è già un qubit ma anche lo spin quindi la polarizzazione del fotone la polarizzazione del fotone ma anche lo spin dell'elettrone ma anche altri sistemi che abbiamo in maniera naturale sistemi anche costruiti da nanoparticelle offrono dei qubit naturali bene le trasformazioni fisiche elementari già computano i qubits quindi esistono già trasformazioni in natura che sono delle computazioni di qubit magari sono scorrelate nel senso che non ne capiamo il motivo però in realtà sono già delle computazioni e quindi l'universo è un media di informazione e contiene informazione e quindi non è più un sistema agnostico rispetto all'informazione quindi questo questo primo questa prima pillola diciamo deve già cominciare a svegliarsi un po' come un po' come in Matrix c'è l'idea che spesso ci poniamo alla domanda ma come come si è creato il tutto cioè nel senso come è possibile che da un insieme di particelle come quelle che abbiamo visto descritte da modello standard che se ne andava ognuna per i fatti propri si sia creato un universo in cui ci siamo noi come esseri pensanti il gatto che è arrivato e i computer cioè come siamo passati da attento mi abbraccio a Laura scusate scusate come siamo passati da da questo da qualcosa che sembra appunto scorrelato inanimato a un sistema in cui ci stiamo parlando e in cui stiamo pensando ascoltando trasmettendoci informazioni come è stato possibile allora diciamo che lo scenario classico o non ha risposta oppure può avere una risposta che ancora oggi può essere trovata in una fede che va benissimo ovviamente la scienza è agnostica nella fronte della fede e quindi diciamo il tipo di risposta però potrebbe essere solo questo diciamo del tipo guarda c'è un mondo classico poi c'è la fede e questo spiega tutto e questo va benissimo ma altrimenti diciamo stiamo facendo un passo diciamo entrando nel mondo quantistico che anche questo può essere assolutamente compatibile con qualsiasi fede quindi però le risposte sembrano già date nel tessuto dell'universo stesso cioè l'universo stesso si pone come un media informativo nell'universo ci dice dove sono i bit e ci dice come possono essere computati e trasformati bene a questo punto però diciamo si si pone un problema bene ci abbiamo detto questo adesso ho messo questa immagine che era nella mia mente era un po' ironica detto questo come siamo passati dal sistema da modello standard quindi da un sistema di particelle elementari di campi come si passa a una realizzazione pratica di una CPU attraverso l'equazione di Scheringer cioè come faccio a pensare a questo riesco a descrivere ammesso appunto che tutto quello che stiamo dicendo sia coerente e si porti da qualche parte ma come posso pensare che sia successo questo cioè è vero mi rendo conto che l'universo sembra un media informativo sembra che i qubit appunto ne siamo già ricchi senza doverli costruire direttamente noi piuttosto che dobbiamo intrappolare per mantenere le coerenti fra di loro però mi chiedo bene ma come è successo cioè a questo punto come faccio come è potuto succedere l'impostazione classica ortodossa della fisica cioè quella che vede la fisica come una scienza che deve descrivere l'evoluzione dei sistemi dinamici mi può dare una risposta in pratica posso passare da qua cioè diciamo dal modello standard a una CPU semplicemente semplicemente immaginandomi qual era la posizione di ogni particella subito dopo il Big Bang e descrivendo la sua evoluzione attraverso l'evoluzione di scherding o del campo opportuno ovviamente è una domanda si farebbe un po' fatica a pensare in questi termini qua cioè si fa fatica a pensare che si possano descrivere le cose in questi termini ora vediamo un po' la fisica ortodossa cosa fa descrive la dinamica di computazione di un computer classico e qui siamo d'accordo descrive la dinamica di computazione di un computer quantistico perfetto quindi stiamo parlando di una fisica che va benissimo che funziona che nessuno assolutamente contesta appunto questa che in questo momento sto chiamando fisica ortodossa però che mi è utile per descrivere costruire un computer quantistico ma non mi dice una cosa non mi dice come si fa un computer classico da dove deriva e da dove deriva un computer quantistico diciamo come praticamente si sono creati a questo punto introduciamo un'idea nuova questa appunto questa idea che fa parte di questo percorso ed arriva appunto da David Deutsch e da Chiara Marletto cominciamo a pensare in un modo diverso smettiamo di pensare solo in termini di avere delle condizioni iniziali quindi uno stato iniziale e studiarne l'evoluzione un po' come si fa nelle previsioni del tempo quando faccio un forecasting vado a prendere tutti i punti di monitoraggio prendo la pressione la temperatura e vado a misurare un po' dappertutto e a questo punto vedo come attraverso delle equazioni attraverso dei modelli vedo come evolve il tempo quindi faccio una previsione bene quindi questo fa anche la fisica quella è proprio fisica cambio modo di pensare invece di pensare in questo modo comincio a ragionare in un altro modo cioè mi comincio a chiedermi che cosa può succedere che cosa non può succedere semplicemente senza chiedermi perché succede cerco di capire quali sono le trasformazioni possibili e quali sono le trasformazioni invece che non sono possibili in questi termini per esempio cosa Matteo mi dice quanto tempo ho perché non vorrei andare fuori e neanche accelerare troppo per Matteo ci sono io eccomi Francesco no vai tranquillo diciamo per le 8 hai circa 40 anche un'oretta abbiamo calcolato quindi non ti preoccupare di andare ok ma a me bastano altri 10 minuti non volevo sì sì no stai tranquillo stai tranquillo hai tutto il tempo che vuoi tranquillo no perché poi altrimenti comincio a correre perché ho timore va bene in 10 minuti arrivo alla conclusione dopo che ci sono domande e tutto va benissimo in 10 minuti arrivo alla conclusione perfetto ti ringrazio mi è tranquillizzato ok quindi praticamente cominciamo a ragionare in maniera quella che in inglese si chiama counterfactual in realtà esiste anche in italiano siamo un pensiero controfattuale cioè nel chiedermi come diciamo come possono andare le cose in una certa situazione che magari so che in quel momento quella situazione non è reale e un po' mi ricordo ancora da bambino si diceva la storia non si fa con il sé bene però io posso chiedere ma e se invece fosse successo questo poteva succedere questa altra cosa solo che non lo faccio su un percorso storico ma lo faccio su una trasformazione fisica allora prima di capire bene questo concetto dobbiamo pensare un'altra cosa importante che abbiamo in questa teoria per esempio pensiamo a cos'è un sommatore cos'è un sommatore un sommatore è qualcosa che esegue delle somme in termini fisici reali io posso definire un sommatore solo se lo descrivo fisicamente quindi per esempio se descrivo fisicamente una calcolatrice allora in questi termini una calcolatrice descritta fisicamente avrà sempre dei limiti perché una calcolatrice descritta fisicamente potrà computare al più fino a una certa cifra poi non sarà possibile cioè per quanto io possa immaginare di aumentare la sua memoria ad un certo punto dovrò accettare che esiste un fine di questa memoria per cui potrò computare al massimo un certo numero un numero che più grande di così non posso rappresentare su quella calcolatrice quindi non è un sommatore ideale quindi invece noi vogliamo cominciare a pensare che possono esistere delle cose astratte in teoria delle cose ideali quindi qual è la differenza da un lato io posso pensare se ragiono in maniera controfattuale all'esistenza per esempio di un sommatore una cosa che comunque dati x e y mi calcoli z quando invece penso attraverso un sistema fisico ortodosso a cos'è un sommatore devo pensare in termini di condizioni iniziali nel senso come l'ho costruita questa calcolatrice beh in base a come l'ho costruita magari potrà fare 1 più 1 uguale a 2 però magari 100 più 100 no perché è troppo grande quindi da definita condizione iniziale si può generare una calcolatrice che faccia di eseguire per un definito periodo la somma di numeri fino a n cifre perché poi dico per un definito periodo perché anche lì se penso a un sistema fisico reale so che prima o poi dovrà rompersi dovrà evolvere in qualcosa in cui andrà a perdere la sua struttura bene però è anche vero che ci chiediamo nella fisica si pensa in termini controfattuali beh allora anche nella fisica in realtà a volte anche nella fisica ortodossa ecco e quando uso questo ortodosso scusate il tempo perché a volte diciamo magari si usano dei termini su cui non si è già d'accordo e poi si creano delle incomprensioni quando dico teoria ortodossa o non ortodossa intendo dire che stiamo sempre parlando assolutamente di fisica cioè di fisica che viene pubblicata su physical review quindi siamo tutti d'accordo su quella che sono le leggi della dinamica non c'è una non sono teorie alternative diciamo che è un punto di vista che può essere più o meno ortodosso dove con ortodosso intendiamo dire quello che è più ufficialmente più ufficialmente riconosciuto cioè il punto di vista diciamo della maggior parte di una comunità ecco solo questo quindi non di non di teorie alternative non di teorie a parte ma semplicemente un punto di vista lo chiamiamo non ortodosso potremmo chiamarlo ribelle potremmo chiamarlo sempre anche qua diciamo con ironia e tranquillità un punto di vista nuovo ecco questo forse è il termine più corretto quindi ci chiediamo la fisica la fisica ortodossa in realtà pensa mai in termini controfattuali in realtà sì perché come al solito non si inventa nulla non è che di punto in bianco la fisica già era abituata a ragionare in termini controfattuali quando per esempio a fronte di un certo sistema fisico si pone il problema e dire ma se avessi avuto delle condizioni iniziali diverse cosa sarebbe successo per esempio quando si studia anche al liceo un problema di urti due palline partono da una certa distanza con una certa velocità sì e se fossero partiti dalla distanza doppia e con velocità doppia quindi già questo in realtà è un modo di vedere le cose in termini controfattuali cioè chiedersi che cosa può succedere se cambio le condizioni che cosa può succedere quindi non tanto porsi nel problema di vedere che cosa può essere calcolato ma che cosa può succedere che cosa può essere trasformato da una realtà in un'altra realtà perché è proprio in questa idea qui nel che cosa possiamo trasformare che come vedremo arriveremo al nucleo della nostra discussione quella che si chiamerà poi appunto la costruttura theory che ci permetterà in sostanza senza sbilanciarci di troppo però di vedere in un certo senso un po' il nostro universo come un grande sistema di computazione adesso qua non voglio non voglio neanche diciamo né esagerare né voler entusiasmare troppo però diciamo ci sono in realtà delle degli aspetti veramente interessanti che una volta entrati quindi passati dalla information theory classica alla information theory quantistica ci permettono di vedere le cose in un altro modo e anche diciamo facendo quest'altro passaggio quindi il passaggio che diciamo della fisica basata sull'idea della semplice evoluzione dei sistemi dalle condizioni iniziali verso nuove condizioni invece passare a questa idea di ragionare in termini controfattuali cioè chiederci che cosa è possibile che cosa non è possibile che ci spiegano più facilmente il perché si è passati da un sistema caotico di particelle a un sistema in cui invece abbiamo dei computer e abbiamo dei sistemi intelligenti come noi che stanno ragionando e stanno parlando fra di loro allora vediamo un po' qual è il problema se consideriamo che ogni realtà derivi dall'evoluzione temporale di un sistema a partire da determinate condizioni iniziali ora vediamo un po' di cui vediamo le cose riusciamo a dire che il DNA è fatto di atomi riusciamo a spiegare il legame che abbiamo a livello atomico tra tutti gli atomi quindi riusciamo a capire come queste molecole stanno insieme ma non riusciamo a spiegarci perché si siano legate in questa particolare struttura quindi questo è il punto fondamentale quindi riusciamo a dire sì guarda ogni particella che sta a parte del DNA è in realtà è una particella del modello standard o comunque diciamo per esempio abbiamo degli stati aggregati di quark che appunto gli adroni che poi diventano i nostri protoni e neutroni che sono dopo dentro il nucleo degli atomi bene e questi quindi sono spiegati nel modello standard quindi con la fisica spiega tutto sì ma non ha spiegato come è successo cioè non spiega come si sia passati da quel sistema a quello che abbiamo adesso non riusciamo a spiegarlo in termini di evoluzioni dinamiche a partire da una condizione iniziale i dati inoltre abbiamo un altro problema se vogliamo vedere le cose solo così quindi abbiamo un insieme di particelle e un insieme di leggi fisiche che ne descrivono l'evoluzione dobbiamo rinunciare al concetto di libero arbitrio questo è bruttissimo pensarci ma in realtà è vero se io penso quindi mettiamo da parte completamente l'anima ok quindi non parliamone per adesso perché non abbiamo modo di discernere sull'anima se pensiamo che il nostro cervello sia composto solo in termini fisici da particelle e da leggi che lo fanno evolvere dobbiamo anche pensare che il libero arbitrio non c'è anche se in questo momento io penso di scegliere una parola in realtà questo è dovuto alla condizione iniziale che c'era nel mio cervello un minuto fa che è dovuta a quella di due minuti fa e via dicendo da quando sono stato concepito e quindi in questi termini devo rinunciare al libero arbitrio ma è questa quindi l'unica realtà quindi non si può essere sicuri dell'esistenza del libero arbitrio però sicuramente ho scritto qua farebbe piacere pensare di essere essere intelligenti anche se in realtà devo dire ci sono alcuni fisici che dicono che noi in realtà non abbiamo libero arbitrio appunto secondo la teoria fisica non è che nessuno si voglia sbilanciare a fare da padre nostro però in realtà siamo coscienti e questo potrebbe essere due aspetti compatibili quindi si potrebbe non avere il libero arbitrio ma essere coscienti del fatto di ciò che si succede cosa è praticamente interessante quindi diciamo da un lato questo quindi l'altro è che non è soddisfacente avere una teoria che per quanto corretta non sia capace di prevedere la creazione di sistemi come le forme biologiche elementari quindi non siamo contenti se da un lato la teoria che abbiamo magari spiega il perché diciamo i quark si aggregano in stati adronici spiega perché poi gli adroni eventualmente formino un atomo ma non spiega come è venuto fuori il DNA quindi in qualche modo non spiega il perché abbiamo il mondo che abbiamo a questo punto arriviamo finalmente a cominciare a avvicinarci adesso l'immagine che vedete appunto è Chiara Marletto quindi la professoressa Chiara Marletto che appunto insieme a David Doig hanno fatto questo passaggio in più quindi siamo sempre ci tengo molto a dirlo all'interno assolutamente della fisica ortodossa sono fisici parlano di quantum mechanics non stiamo persone con dei riconoscimenti assolutamente riavanti che hanno dato contributi fondamentali sia alla teoria che alla tecnologia che stiamo usando in questo momento però appunto hanno fatto questo passaggio un po' un passaggio in più proviamo a concentrarci non tanto su solo cioè nel senso non solo ecco non solo sulle equazioni della dinamica e sulle condizioni iniziali proviamo a pensare semplicemente a quali sono le trasformazioni possibili e quali sono quelle impossibili allora per esempio adesso qua io ho riportato questo esempio molto semplice che io poi ho rifatto ho ricopiato dal libro di Chiara Marletto la fisica di ciò che può essere e ciò che non può essere The Science of Ken and Kent che vi consiglio adesso io sono rimasto che c'è solo la versione in inglese credo che ne deve uscire anche una edizione in italiano però anche l'edizione in inglese insomma per chi la mafrica insomma la consiglio perché è un libro assolutamente interessante poi assolutamente è a livello può essere letto assolutamente da chiunque se non è per i suoi fisici anche se contiene idee e concerti sfidanti anche per un fisico ma non non perché ci siano delle formule che non possono essere capite per cui se un po' a leggerlo chiunque però certe idee fanno fare un passaggio ecco per cui questo lo consiglio anche a chi non è del settore allora qual è l'idea l'ulso molto rapidamente cosa abbiamo praticamente vediamo che abbiamo quattro condizioni di una carrucola è la prima in cui abbiamo che i due punti A e B diciamo sono allo stesso livello poi abbiamo invece A più che indica A più in alto ecco e B invece che rimane rimane lì poi abbiamo A più e B meno quindi A si alza e B scende poi invece abbiamo A e B più ora ci chiediamo quali trasformazioni sono possibili dobbiamo considerare che la corda è una cosa ecco che devo dire è inestensibile allora quali sono le trasformazioni possibili in realtà sono solo quello che va da A più B in A di più quindi in cui spostiamo i due i due pesi oppure quella che va da A B in A più di meno quindi se sono l'equilibrio uno l'alzo e uno l'oro e quindi è un concetto in realtà molto di per sé chiaro in senso assolutamente condivisibile ecco qua ho riportato anche il paper della Marletto scritti tantissimi diciamo questo è quello che è il paper di riferimento per questo per questo lavoro questa è una thai assolutamente detto il lavoro è molto complesso da leggere anche se è molto bello non richiede in sé delle competenze specifiche di quanto mechanics avvenne un'idea sì ma non però diciamo è un paper abbastanza complesso per cui diciamo consiglierei di partire eventualmente dal libro che si legge è molto più narrato molto più narrativo e poi magari passare al paper in un momento successivo perché questo altrimenti diciamo un po' ci si può disinnamorare perché questo è un paper davvero tosto dicevo appunto in realtà questo nella fisica in sé non è una novità perché adesso per esempio la conservazione dell'energia qualcosa che usiamo che si usa con continuità sia in fisica che in ingegneria che in geologi che in chimici tutti usiamo la conservazione dell'energia bene in effetti in realtà questo è già un'impostazione controfattuale cioè noi quando utilizziamo per esempio la conservazione dell'energia per calcolare l'altezza a cui tornerà una palla mattina una pallina che rimbalza dico se la faccio lanciare da qua al solito trascurando gli attriti dicendo la lascio cadere e mi tornerà in mano perché? perché semplicemente mi fido del principio di conservazione dell'energia perché mi fido in realtà io quello l'ho ottenuto dalla legge di Newton è vero e quindi da leggi che destivano la dinamica non è però a un certo punto ho questo principio ho questo principio che posso utilizzare e quindi so che le trasformazioni che conservano l'energia sono trasformazioni possibili e quindi è questa un po' l'idea applicare applicare questa idea non solo nell'ambito di trasformazioni fisiche elementari ma anche di trasformazioni fisiche più ampie che riguardano appunto l'informazione perché possono riguardare l'informazione perché sono trasformazioni fisiche che trasformano le particelle elementari particelle elementari che hanno caratteristiche quantistiche come appunto lo spin o la polarizzazione che sono in sé rappresentative di informazione quindi posso cominciare a pensare a qualcosa che trasformazioni che computano che trasformano l'informazione allora vediamo un po' quest'altra slide sto arrivando in pochi minuti sto arrivando alla conclusione così poi lascio anche per le domande questo approccio cosa aggiunge di nuovo ora anzitutto vediamo un po' l'approccio dinamico la fisica non tratta l'informazione come un ente elementare piuttosto come un fenomeno emergente quindi nell'approccio dinamico l'informazione è qualcosa che dobbiamo costruire noi come esseri umani quindi non è compreso nella teoria perché ci serve la teoria fisica poi serve l'essere umano che non è descritto la teoria fisica attraverso la sua volontà e la sua intelligenza che a sua volta va a creare l'informazione poi cosa abbiamo la teoria classica dell'informazione la teoria classica dell'informazione definisce l'informazione nei termini di stati distinguibili l'uno o lo zero come ben detto con un settore carico o scarico la teoria classica dell'informazione definisce la computazione come un'elaborazione dell'informazione ecco che in realtà noi quindi per distinguere dobbiamo computare ma allora abbiamo una ricorsione nella definizione cioè per poter dire che due stati che un sistema porta informazione devo dire che i due stati sono distinguibili ma per distinguerli ho bisogno di computarli ma la computazione è definita nei termini dell'informazione quindi sono in un round trip un round trip che diciamo non fa male se non cerco di descrivere tutto attraverso la fisica quindi se non sto cercando una teoria completa quindi diciamo che Shannon non ha introdotto dei problemi da questo punto di vista e neanche Turing perché dicevano ma tanto è un po' la cogito ergo sum nel senso ci sono io che sono capace di distinguere basta sono a posto però appunto questa teoria non è soddisfacente dal punto di vista fisico cosa succede invece nell'approccio controfattuale bene le leggi sono espresse in termini di trasformazioni che sono possibili ma da parte di chi? beh da parte di quello che chiameremo un costruttore quindi un sistema fisico chiameremo un costruttore poi cosa abbiamo? l'informazione non quantistica è definita come un sistema fisico clonabile da parte del costruttore mentre l'informazione quantistica è definita nei termini degli stati che un sistema può assumere quindi per esempio l'informazione quantistica è definita nei termini della polarizzazione di un fotone e attenzione che invece l'informazione quantistica non è clonabile quindi la teoria diciamo l'approccio controfattuale descrive sia l'informazione classica che l'informazione quantistica questo è un altro aspetto molto interessante allora cos'è questa costruttore theory ok anche questa non l'ho chiamata teoria del costruttore non l'ho tradotto perché la teoria del costruttore non ci sta ci sono delle cose che si stanno in inglese non ci sta in italiano almeno dal mio punto di vista per cui ecco non ho voluto storpiare il termine l'idea è questa qua quindi se postiamo ancora questo vedete quindi l'idea è che deve avere un costruttore quindi un sistema fisico che è già un costruttore è un substrato che invece è appunto un substrato che è il materiale sul quale agisce il costruttore quindi questa è l'idea di base bene troviamo che il substrato ha degli attributi invece il costruttore va a modificare questi attributi ora cos'è un attributo leggiamo sempre dalle slide è qualcosa che può essere modificato da un processo fisico bene l'insieme dei valori distinti dell'attributo è descritto da una variabile ok quindi se un attributo può assumere più valori allora ecco o una variabile che descrive questi vari valori poi cos'è un costruttore? è qualcosa che trasforma gli attributi che sono presenti nei substrati la cosa particolare la cosa importante è che rimane uguale a se stesso durante la trasformazione per questo avendo per esempio un calcolatore un calcolatore che una calcolatrice un sommatore non quello di cui abbiamo parlato prima che rimanga uguale a se stesso durante la trasformazione allora questo appunto possiamo vederlo come un costruttore poi cos'è a questo punto la computazione reversibile? è una trasformazione che viene operata dal costruttore e scambia almeno due attributi nel substrato l'informazione invece quella non quantistica cos'è? è una variabile che descrive gli attributi e che può essere clonata invece con la quantistica abbiamo detto prima cos'è un mezzo di informazione? è un substrato con almeno una variabile di tipo informazione allora qual'è diciamo la caratteristica adesso siamo arrivati veramente alla fine quindi qual'è la caratteristica? abbiamo definito un nuovo modo di vedere le cose possiamo vedere la computazione come delle trasformazioni fisiche operate da un costruttore un costruttore che possiamo vederlo come una sorta di catalizzatore perché catalizzatore? perché alla fine non prende parte diretta della trasformazione cioè rimane uguale a se stesso alla fine della trasformazione e possiamo in questo modo qui diciamo con questo approccio possiamo via via diciamo adesso buttiamo un po' il cuore oltre l'ostacolo con calma però possiamo spiegare per esempio perché esiste il DNA quindi questo è perché quali sono stati le trasformazioni possibili che hanno portato un universo freddo da un punto di vista emotivo un universo freddo e inanimato verso un universo invece che quello che noi conosciamo quindi attenzione non stiamo parlando di scoperte innovative non è che stiamo dicendo abbiamo trovato la particella della coscienza non è che stiamo dicendo cioè non non stiamo uscendo dal seminato della fisica sperimentale assolutamente è un punto di vista diverso cioè è uno scostarsi da un punto di vista qui siamo quello appunto chiamiamolo ortodosso classico direzionale come vogliamo lo scostarsi da un punto di vista che non stava portando a nuovi risultati e perché come è nato da qual è stato ispirato è stato ispirato sostanzialmente dal quantum computing cioè proprio entrando quindi avendo la necessità di ridefinire la teoria dell'informazione perché quella classica non era più adatta alla computazione quantistica si è accorto che la cosa non era solo quella cioè non era solo un problema di passare dai bit e cuviz ma il problema di passare da un mondo appunto che è agnostico rispetto alla computazione quindi è un mondo in cui l'essere umano entra come qualcosa di aggiunto quindi l'intelligenza entra come qualcosa di aggiunta a un mondo invece in cui la computazione potrebbe essere parte centrale quindi perché esistiamo tutto sommato potremmo porci alla fine questa domanda anche se veramente adesso non è che possiamo dare veramente una risposta ma forse esistiamo perché l'universo era progettato per costruirci cioè nell'universo c'era già l'informazione e c'era già tutto quello che serviva per arrivare fino a qua e poi chissà fin dove altro perché ovviamente non dobbiamo avere la presunzione di essere il capitolo finale anche se gli eventi di questi anni ci stanno portando a pensare bene io direi che a questo punto mi fermerei un po' di parlare anche perché ho fatto un monologo veramente lunghissimo e niente se ci sono qualche osservazione così mi piacerebbe scambiare le occhievi d'occhiacche quindi rilascio la parola agli organizzatori e mi taccio ok grazie grazie Francesco se ci sono domande potete alzare la mano io vi lascerò la parola aspettate che mi faccia vedere non vedo domande no credo che sia stato abbastanza chiaro o l'argomento abbastanza ostico non so sicuramente è interessante è un aspetto molto sottile ma ovviamente offre una visione veramente nuova del quantum computing non solo quindi in termini di performance e di speed up come si chiama la quantum speed up e dopo molti chiamano anche la quantum supremacy ma in realtà è qualcosa di nuovo quindi non è solo un problema di performance di capire con come diciamo dagli anni 50 ad arrivare ad oggi il mondo è stato anche noi non eravamo presenti negli anni 50 però possiamo ancora vedere i film dell'epoca non solo leggere i libri e quindi vediamo come il mondo è stato trasformato anche con mentalità con il punto di vista c'è la semplice la parola l'algoritmo una volta era solo di competenza di matematici oggi è sulla bocca di chiunque e abbiamo una visione veramente diversa e così per questo dico il quantum computing declinato in questi termini probabilmente è destinato a trasformarci veramente non è solo un problema di non è neanche solo un problema di metaverso oggi siamo tutti molto concentrati sul metaverso che sicuramente sarà bellissimo anche io non vedo l'ora francamente di entrarci ma è comunque il metaverso è una diciamo un'esasperazione di questi invece quest'altro forse sarà un'evoluzione tra virgolette se mi passi il termine anche spirituale cioè andiamo a una comprensione maggiore di noi stessi e di cosa ci stiamo a fare ma senza entrare nella religione perché questo è un tema che ognuno deve per sé mi sa che nessuno si va si fa avanti ma ecco una domanda di Paolo riesci a leggere pure tu o lo leggo io? leggere pure tu ok è simile o riconducibile alla quantum theory dynamics? quantum dynamics sì sì allora se ho capito bene la domanda assolutamente sì nel senso che siamo assolutamente la quantum dynamics e questo è diciamo un ulteriore punto di vista nel senso quindi rimaniamo assolutamente all'interno della della meccanica quantistica però diciamo ci si pone una domanda in più una domanda in più che dà anche diciamo un punto di vista privilegiato per dare la risposta bene abbiamo risposto Paolo andiamo a farci da un feedback sì grazie ok perfetto ok qualcun altro qualche curiosità intanto sono sono contento perché ho visto comunque che quando abbiamo finito eravamo ancora in 18 siamo riusciti tutte le esiste perché è chiaro che tra l'ora insomma che tira verso la cena ma infatti lo sai che sto avvenzando questo periodo Paolo che per lo smart working ma forse anche non riesco a dire ragione io credo che dal prossimo anno anticiperemo gli eventi se noi trattiamo come hai visto Paolo Francesco cose abbastanza pesate da fare sì non mi sembra una cattiva idea possiamo anticiparla sicuramente e niente io direi che vista l'ora come dicevate voi vista la cena che si avvicina possiamo chiudere qui non so se Matteo vuoi dire qualcosa io ringrazio diciamo tutti i partecipanti ringrazio Francesco che ci ha fatto questo bello speech ricordo che le slide Francesco le metteremo noi ovviamente saranno su slide share di Deep Learning Italia quindi per chiunque vuole andare a vedere diciamo le slide saranno su slide share Francesco è disponibile anche per link noi quasi ci siamo conosciuti quindi se avete delle domande potete benissimo riferire a noi a noi o direttamente a lui come volete quindi slide disponibili l'evento disponibile sia su Codemotion che sul canale YouTube di Deep Learning Italia e qualsiasi domanda fate bussate a una di queste mille porte e aspettiamo con ansia anche il corso di Francesco sulla piattaforma e ti ringrazio Francesco e ti ringrazio Paolo per l'ospitata siamo sempre a disposizione lo sai Matteo grazie a tutti ciao e grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti buona sera buona sera buona sera buona sera